Riconvertire la centrale di Fiume Santo per adottare un sistema sostenibile in grado di garantire continuità nella produzione e nell'occupazione. Per realizzare il progetto però occorre fare presto perché entro il 2025 il carbone non potrà più essere utilizzato. Questa è la proposta avanzata alla CISL durante una conferenza stampa nella sede di Confindustria Nord Sardegna. Presente la società Epiproduzione che ha proposto la trasformazione di uno dei due gruppi ora in servizio in un impianto a biomasse con un mantenimento dell'occupazione e un abbattimento delle emissioni di anidride carbonica. Epip ha inoltre suggerito la costruzione di un impianto a metano al posto del gruppo a carbone. Riteniamo che il sito debba continuare ad avere un ruolo essenziale anche dopo la cessazione del carbone ha dichiarato Mario Marras, segretario generale Flai CISL Sardegna, sia per il sistema elettrico del territorio, sia per l'intero sistema produttivo come principale polo di produzione di energia elettrica. Il percorso di trasformazione dell'impianto, ha aggiunto Pierluigi Ledda, segretario generale CISL Sassari, deve essere condotto con il coinvolgimento di tutte le parti. Questa trasformazione deve diventare occasione di sviluppo e crescita anche dell'occupazione. La CISL e la Flai hanno dunque chiesto alla regione di attivare il tavolo previsto dal piano energetico regionale e invitato le parti a sollecitare un confronto con il Ministero dello Sviluppo Economico per garantire scelte sostenibili sul piano economico e ambientale. Grazie. Grazie.